... Dentro Mertens in posizione regolare, deve uscire Scesni... ...Tris! Mertens, 1-0! ...Germinio la mette giù, Germinio si gira, schizza per Florenzi! ...Ale, Ale, 2-0 per la Roma, al tredicesimo Alessandro Florenzi, il raddoppio della Roma. Dove va Florenzi? Va via, dove va Florenzi? Credo sia andato dalla nonna. E qui c'è tanta tanta emozione, molto bella, molto molto bella questa scena. 50 nel secondo tempo, vince l'Atalanta, 3-2, punizione per Paggio, il cross morbido in mezzo, deviazione... C'è Mazzone che parte, non lo prendono più, non lo prendono più Mazzone sotto i tifosi, sotto i tifosi dell'Atalanta. Mazzone sotto i tifosi dell'Atalanta, è impazzito, non lo tengono più, si è sfogato Mazzone. Cerco lo spunto, vuole la sinistra, la mette in mezzo, secondo palo! Gol pazzesco di Totti! Ma cosa ha fatto Totti? Si fa la foto, il selfie! E questo super addirittura quando ho preso la telecamera, ti ricordi, anni fa. Si è fatto il selfie! Antonio Cassano! 3-0! Ibra in area di rigore! Ibra! Sata! Ibra Imovic! Sempre lui! Calvar e Zitri! Iscriviti al nostro canale! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.